alexandra è un bello spettacolo ragazzi non vi prudono le mani corsari su quella nave c'è un bottino veramente prezioso prendiamolo capitano certo voi siete pronti video pirati presto prepariamoci a difendere la nave fate fuoco prendete quella nave all'arribaggio per giove capitano tutte le ultime videocassette in beta e vhs alcune sono così recenti da essere in edizione della trama servitevi pure corsari è pieno di fiammati video disc non ci puoi registrare sopra non sono compatibili con il mio sistema capitano questo è chiuso state indietro capitano ci sarà avvicinatevi e rifatevi gli occhi con questo e potremo fare centinaia di copie inserisci sì capitano oh sto morendo di paura oh 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 oh